Corriamo insieme di Pierluigi del Nista e Andrea Tasselli, il nuovo manuale di educazione fisica per la scuola secondaria di primo grado della casa editrice d'Anna. L'opera è disponibile in due configurazioni. Corriamo insieme è la riedizione di Mimetto in gioco. Corriamo insieme Plus è la versione potenziata che affianca al manuale un quaderno operativo. Un nuovo apparato di 78 video lezioni sintetizza tutto il corso facilitando il docente nella gestione della didattica digitale integrata e inclusiva. Il manuale completo di tutti gli argomenti presenta una piacevole veste grafica dove l'immagine svolge un ruolo centrale. Alla fine di ogni sezione vi è una scheda dedicata all'educazione civica e all'agenda 2030 per approfondire nuovi temi dedicati alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile. Ogni scheda è presenta delle attività didattiche per far riflettere gli studenti e collegare gli argomenti del corso alla loro esperienza vissuta. Incorriamo insieme le attività per competenze e i test per l'autovalutazione delle capacità motorie e dei fondamentali sportivi si trovano in un'unica sezione alla fine del manuale. Oltre alla ricchissima dotazione multimediale del manuale sono disponibili sintesi e mappe concettuali per la didattica inclusiva online percorriamo insieme e su carta nel quaderno operativo dell'edizione plus. Il quaderno operativo è organizzato in tre sezioni ricorda per il recupero dei concetti studiati conosco e rifletto per la verifica delle conoscenze l'approfondimento e la riflessione critica so fare per gli esercizi pratici la didattica ludica e lo sviluppo delle competenze. L'applicazione app punti di anatomia scaricabile gratuitamente da Apple Store o da Google Play con il codice di sblocco del volume mette a disposizione animazioni 3D, test drag and drop ed esercizi interattivi per il ripasso dell'anatomia. Corriamo insieme si avvale di tutti gli strumenti digitali e multimediali che caratterizzano i corsi Loesher e Moderna. Le risorse multimediali sono accessibili registrandosi su Imparo sul web o usando l'app Aumento. Il manuale comprende le 78 nuovissime video lezioni, video commentati e video animazioni degli schemi motori di base e dei fondamentali sportivi, video lezioni di medici specialisti sui temi della salute e dell'anatomia, approfondimenti in pdf e sintesi e mappe concettuali in pdf e in ppt. Il manuale comprende il volume Corriamo insieme o il volume Corriamo insieme Plus arricchito dal quaderno operativo e le risorse per l'insegnante. Corriamo insieme il manuale di educazione fisica che favorisce l'autonomia nello studio degli allievi grazie alla ricchissima dotazione multimediale. Grazie 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 Grazie